ciao a tutti e bentornati a minecraft io sono sempre sul server di la boycraft oggi insieme a minerva mia sorella c'è anche un ospite un vip un ospite vip che è darkness potete smutarvi ragazze ciao minerva e ciao darkness ciao ecco ecco allora oggi andiamo a fare un'altra escursione in una miniera che ha trovato minerva quindi adesso appena amici tippa sotto casa sotto casa sta sotto casa di minerva quindi proprio non lo sappiamo anche lei questo ci andiamo a fare ok aspettate che adesso accetto damosi ecco ecco qua ecco qua allora io sto in mano invece che la spada il cibo vabbè dettagli dettagli allora da andiamo ecco qui darkness che l'altro giorno mi serviva un po di pietre mi sono messa a scavare questo tunnel e sono sfociata esattamente qui ok quindi qui ci dovrebbero essere anche le cest su giro giusto questa è la classica donna moglie rave qua o della e quando c'è una volta è già torciato tutto no solo qui all'ingresso allora scusate io piglio un po di robe io prendo le ferrovie nei rotali di qua è tutto buio è cioè io sto livellando estrazione in una maniera sconciosa proprio darkness come sta estrazione vabbè darkness gioca da da una vita è la vita qualche mese qualche mese qui c'è del ferro magari non vede ma attenzione un attimo io sto sto prendendo il carbone lasci fare trazioni o 621 ah beh allora vedi io 106 mi raccomando le torce in basso a destra è no io non le metto le torce mettete voi così non ci confondiamo vediamo che c'è nella chest prendo tutto io uno di tamburi e no no si spartisce 90 ma che luminosa e per amore questa prendo pure le torce guarda quante torce semi di anguria perché così peste estate c'è morco come non giusto darkness ma chi è che ha bevuto stato in questo modo io non lascio la visione ma chi devo seguire io decode la dai noi seguiamo dei fai tu strana dai faccio io strada e chi è qui io penso è il conto su e darkness ma da una donna di guarda come frega la roba darkness guarda e io devo ritellare attenzione attenzione che qui c'è del ferro io lo piglio queste possono sempre servire queste le mi servono perché io mi devo fare la casa hobbit oh oh ma le fregate maledette mi fregano una roba io non so mi serve un piccone poi a me perché io non ce l'ho di ferro come io te l'ho fatto in diamante è mamma è quasi finito damose 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 la seguiamo seguitemi seguitemi faccio strada io che so 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 precisamente dove sto andando ma è un madonna che vuol dire ma poca fiducia no non per te per il messaggio che ho fincatto ha non l'ho visto che è uscito attenzione c'è uno spawn ragazzi c'è uno spawn attenzione attenzione di ragni i ragni velenosi no uccidete lì sta uccidendo sta uccidendo sta uccidendo ho ucciso ho ucciso ma mi anche avvelenato maledetto ma dice che mangia una carolina e passa tutto ma l'avete rotto lo spawn preso io con tocco di velluto che è passato non è passato non è passato non è passato ma l'artina segna mi ha passato l'infezione ma che cos'è resident evil non so allora non per dire ma mi sa che stiamo girando in fondo non fa niente non ti preoccupare io fatemi prendere le rotaie che devo fare la casa hobbit che poi me la devo cioè mi devo collegare tutte le varie case hobbit con le rotaie ma iu di darkness dove sei capace è capacissima ma però ci facciamo aiutare da minerva l'ho capito esatto non vedi che figa o te risse che bello ma porca pulso affascia di bellissima qua ci stanno altre ruvaie ragazzi un altro spazio non c'erano non mi lasciate da sola che sennò io muoio solo dico arriva allora minerva siamo sopra di te e dove mi nervo ma perché io sono infetta io sono ci sarà qualche ragno ero già morta te lo dico minerva massima su me dove sei sono sotto ma noi siamo sotto tu sei sopra coordinazione zero dietro indietro andiamo minerva vieni indietro minerva indietro sentono zombie attenzione l'ho ucciso ma dove sei darkness ma se sono andata pieno sorella qua sotto lì a quindi me avete lasciato completamente sola bene 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 va beh vai fatti il pillar nabba inside me lasciano da sola vabbè arrivo perso ovviamente dove sei lana penso sotto non vedo scusate ma verso vedo torce però quindi no l'area qui alla nostra sinistra segui la caverna io sono da lei ti disse che darkness mi piace se giovane minerva andiamo siete qua dai e madonna andiamo andiamo a recuperare minerva d'arcrest d'amuso ecco ecco la miniera dall'altra parte da un anno da destra e da sinistra c'è miniera allora acqua innanzitutto c'è del ferro io me lo piglio perché potrebbe servirmi ok poi se da modo e quando andiamo siete qua dai scendo adesso scendendo attenzione ma è finito ma è finita la caverna mando cazzo non mi portate io non so due esperti mi affido a te perché minerva la dobbiamo andare sulla città nostra guarda dai 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 darkness guida tu di guida tu darkness vai vai non so perché da bioma bioma dove sono io costruendo su una città ci sono delle miniere che abbiamo trovato solo una cesta posso dire ecco se andiamo di qua no no sto accendendo io prendo le ferrovie perché mi devo fa c'era ma queste queste boh non c'è niente in queste scendendo un po bene stai scendendo dove dritta se trovo qualcosa di tipo abbiamo perso abbiamo perso darkness tutto siamo vabbè sei con minerva è in buone mani allora perché è già finita così qui c'è ancora miniera allora o ma pure qua però è solo il qualsiasale della vengo vengo da qua qua c'è stato torno su da voi perché sono arrivata alla bedro che mi ha quello cieco ma ci sono le rotaie a cosa fa questi versi si palesi e fa il maniaco ma io non so ma cosa ok che cos'è questo una nuova ricetta sblocca ma compi su un diamante un diamante ho preso non credo ma ma che roba che diceva il ricettario nuove ricette sbloccate allora niente o ci addentriamo nella caverna mi nerva venite qua sì sì dica giustatevi che sono volate di sotto sei volata di sotto sei volata andiamo di sotto andiamo io ho dato una pozione di visione notturna se mai la vuoi usare a me a me ma è mai data oh grazie ma gentilissima grazie ti devo un favore oh vabbè vado abbiamo un favore come se vabbè ogni tanto ne ho finché vuoi di poter vivere l'autunno dai grazie darkness adesso vedo tutto e buttati questa cimpa che mi nerva mi ha dato la pozione questa sera buttati sotto tanto c'è l'acqua ecchi me ecchi me ecchi me gentilissima ragazzi darkness mi ha dato pure chi è che ah penso che qualcuno è stata a dare botte darkness mi ha dato la pozione di visione notturna costacetta che manda da mi sorella io veramente non ho parole io sento sempre un tunnel ma ti va una volta di andare a cercare la città antica ma come si ma vedi chi parte all'avventura vedi chi parte all'avventura ma dove state rega io sto salendo a chiudere un fiume d'acqua questa è una gran caverna questa comunque è enorme enorme mi nerva ma io sta mia ci sono già stata perché ci ho fatto un tunnel ma dove sei adesso ho perso aspetta sopra la tua testa ah e io non volo però no sono andata a chiudere una forza d'acqua ma sono andata perfetto diamante se ti serve oh sì sì dove dove è da cazzo dove sei sotto tutto vengo vengo senza indugio in dubbio ho fatto acrobatica dove è il diamante oh grazie guarda che me l'ha lasciato a me senza io senza prenderlo lei tanto che russa tanto che russa muo a fuoco quanto che volete averlo fatto io può essere sì poi c'è questa zona me la ricorderò con sirius ma no minerva siamo sono a 30 mila da te comunque sì però in zona qui è la zona del castello ah beh sì allora può essere perché risposta all'esplorazione può essere consiglio più probabile io devo salire scusate non devo salire con i mezzi umani salmi da qua ho buttato sotto ah vabbè aspettate eh aspettate che arrivo eh non mi lasciate qui ma con l'acqua help a me blocchi sotto i miei scusate ma voi dovete fare voi dovete tenere presente che io sono una nabba su minecraft per cui non potete lasciarmi la sua posso dire vieni qua da questa parte qua e qua dove darkness guidami dai damo se noi che c'è darkness oggi va allora ho solto la fly quindi potrei morire tra l'altro aspettate che mi salvo io c'è uno zonbos ok ma che era un creeper un creeper un creeper ero vabbè qualcuno mi sta tirando le frecce ragazzi help è motto è motto ci sono due creeper ce ne abbiamo uno a destra e uno a sinistra non so se vi siete desi conto ma io sì allora il creeper l'ho uccido senza esplodere magari quello però c'è un'altra a destra esploso ci penso io a quello a destra non vi preoccupate ci penso io ma dove è la sopra ottima mira ho preso una cime mentre ragazze ottima mira ho preso il creeper dai e arco livello uno ti ho fatto con un obiettivo ottima mira obiettivo ottima mira però le stagmiti le stagmiti ma scusate perché non mi non mi non mi leva queste se questi blocchi questi blocchi questi blocchi vedi guarda è perché c'è il claim di tua sorella non hai dato i trust alla sorella non ti dai trust io non so darkness di qualcosa lui e io con minervo tutti i trust lei a tutti i trust miei quindi ecco e a me non mi trust ti rendi conto io che sono la sorella sangue del suo sangue non mi trust darkness è qualcosa c'è il ttp accetto e dove è darkness ecco io seguo come come che meriamo ma io boh ma veramente veramente ma non mi chiamo sotto sorella la raffa da one sono la pana comunque non è una scelta molto saggia seguirmi però ok ma come come non è una scelta saggia rischio morte è molto alto ho sentito attenzione ho sentito un fuego tipo esplosione di chi era? eh sono io che ho chiuso un creeper ah ok dove siete? smeraldo sopra sopra siamo sopra sono un po' più sopra minerva dai stippala tippala che non è capace più di me è nabba aia fatta acrobatica fatta acrobatica appena la livelli in po' poi fai i caprioli non prendi danni proviamo di qua da questa parte verso sinistra se vuoi là sopra c'era uno smeraldo dove? sopra lì eh guarda quanti materiali in alto aspettatemi non lasciatemi indietro eh darkness conto su te perché mi sorella proprio ha un'esofila di pezza attenzione darkness c'è uno scheletro cioè lo ha asfaltato darkness lo scheletro posso dire? attenzione attenzione ragazzi darkness ha asfaltato lo scheletro darkness 5 eh signori eh cioè signori signori darkness è tanta roba darkness è 70 93 tanta roba tanta roba grazie che preferisco dark dark ok c'è lo smeraldo il smeraldo buongiorno dove che non lo vedo scusa io so sopra di me ah ecco movi io non volo non volo piglielo te piglielo te te lo lascio ah ma hai dato i cosi i blocchi sei in ponte può scendere però ve lo dico aspetta intanto faccio degli acquisti ah ma io c'ho un sacco di roba qui che lascio porca beh 60 vabbè non hai portato lo shulker box eh mi sa te no no non ho portato ho dato altre delle altre pozioni mi sta affinendo anche mi sta affinendo anche la pozione aspetta hai uno spazio libero nell'inventario meno uno eh no c'ho un'ampolla c'ho un'ampolla buttala ecco butta qualcosa dove sei aspetta levo pure levo pure i cosi la la ragnatela se la volete prende voi anche i semi di anguria butto te oh grazie mi ha dato un'altra pozione di visione notturna tanto mi speso questa ceppa che me la dà a mia sorella la pozione io non ho preso l'altra quindi in teoria a te le uso te mai ma te sono crashata nel frattempo no come vero è crashata aspetta non riesco all'interno dai grazie uno scheletro ai potenti mezzi telecom ci pensi tu a uno scheletro due cuori e mezzo ma sì oh teo mi so caduta malamenti ma proprio malissimo setta 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 non riesco non riesco a rientrare ma pure ma so di capire è la costa però vabbè aspetta aspetta allora ce la dovrei fare qua almeno non riesci non rieschi di cadere ok venghi dai l'ho preso l'ho preso dai grazie darkness dark dark scusa dark allora intanto che aspettiamo minerva dove sedamo senti piglia adesso sto ferro piglia 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 pure il carbone piglia perché mio non posso il carbone è inutile inutile ok senti che questo per caso ti serve ardesia profonda ma no ne abbiamo avalangate cioè ne ho avalangate ok semi di anguria io le ho buttate perché ce l'ho di nuovo io veramente non concebisco comunque se hai roba che non ti serve fai slash cestina e le puoi buttare benissimo vedi cestino però aspetta c'ho un secchio non è che ti può fare comodo un secchio ma no perché comunque se fosse c'è il mercato quindi ce l'ho fatta tu minerva hai bisogno di un secchio vuoto no io ne ho centinaia a casa ok perfetto butto sta robetta non serve a niente pure questo non serve a niente adesso una mezza ciofega una mezza miniera sì ah no qua si scende di nuovo ok dove venite di qua ok piccolo morte di gioco di furoro oddio oddio ci penso io ti salvo io non ti salvo c'è kriber mi nerva vabbè ho fatto assist perché non mettendo le torce si scendiamo giù scendiamo giù vai ma che cosa ma che cosa gli spuntoni spuntoni c'è un altro river dai assist voglio vedere se riesco a fare una roba aspetta ah ma ha detto non c'è pvp qua ma io non volevo uccidere my sister oh ma chi è ma chi è che me chi è questo cretino che mi sta freccionando uh altri esmeraldi uh dai io 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 mezzo cuore vabbè mi sono lanciato ve lo farete se quello è quasi morta va bene dai nuove ricette cosa che puoi fare è lanciarti dal punto piatto del mondo fino al punto più basso del mondo eh dai che è questo me lancio me butto no dal punto più alto è 319 blocchi quindi fino alla prossima volta oppure forse ci riusciamo a farlo oggi e no dovete preparare la piattaforma di lancio è appunto bisogna fare il pillar che ci vuole eh fatemi il pillar e io la prossima volta mi butto dove mi dite voi eh va bene per la prossima volta prepariamo e facciamo questa cosina sì ok esatto esatto oggi già ho preso un altro comunque aspetta che è più il suo ferro qua è un po' una schifezza perché beh ecchimi niente però non c'è chissà cosa niente nulla ma dove siete che voi perso da basso da basso sei andato da basso vengo a prenderti di tipo no ecchi 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 segui il corso d'acqua ok oh io no ecchi ecchi non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è non c'è manco il segno in una città antica siamo a meno 44 quindi sotto le montagne quelle grandissime eh dobbiamo farlo però una volta è dark che ne sta detto che ci sta eh uh quanto ne vuoi sotto le montagne nevate trovi la city eh dai vabbè finiamo una volta basta è finito dove siamo abbiamo un'altra miniera ah no questo no finisce là niente sì sì senti allora io però a sto punto andrei dove c'ho la capannina perché io c'avevo i blocchi quelli per completare il portale e vi dico che però mi devo andare a prendere mi devo andare a prendere dove sta a casa di minerva allora guarda che sei da sola eh sappiamo no come sono da sola aiuto aiuto mi hanno lasciato da sola mi hanno lasciato da sola posso dire posso dire dai che dobbiamo fare il resoconto del bottino eh 80 a me 10 e 10 a voi ma come 10 dice a noi dark di qualcosa ok a me non lo sta in caverna ma ok oh allora però aspetta non so se l'ho messi qui o l'ho portati della devo vedere non lo so l'ho messi famete dove siamo no devo andare dell'aspettatemi qua vado un attimo io volando vado un attimo io volando eh sì vado a prendere poso roba dark nel 6 spazio nell'inventario tieni tieni poi che ti do che ti posso dire questo poi io ho qualcosa pure io a darkness perché è stata gentilissima ho dato due pozioni di di notturna cioè posso dire tanta roba allora vediamo dove l'ho messi qua no ah forse è qua esatto l'ossidiana torno da voi prima di subito posso fare il back sì fatti oh no ragazzi di pandemi sono tornata in caverna ho fatto back sono tornata in caverna ok a posto allora allora questo è tutto quello che io ho ricamato dall'escursione che abbiamo fatto quindi dividetevela voi tanto sto scherzando no no tenete tenete tanto non ho bisogno delle lemosine io ma infatti ma come infatti ma darkness ma non stiamo a posto non ho parole allora vabbè pigliate quella roba perché sennò va persa noi siamo riccherrime abbastanza sì allora ce l'hai una cassa che te la metto in una cassa ah sì ce l'ho ce l'ho e non ho il traccio quindi minerva fai tu allora io mi pare che c'avevo pure l'acciarino però ma dove sta non è che ce l'avete uno a volo non so se ce l'ho dell'odd qua guarda un po' tieni c'è un barile specifico per i minerali o va bene no metti 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 tu cogli cogli ah vuoi accendere il portale ma è certo sì sì qua perché dove tu accende eccolo qua dai andiamo a vedere cosa c'è cosa c'è io ho paura damosi troppo avanti sei andata oh porca vediamo un po' vediamo le coordinate beh 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 non è male non è male dai uoce l'oro è l'oro questo stiamo su una foresta rossa attenzione ai pignoli non abbiamo armamenti in oro armamenti in oro sì perché i piglin siccome sono gelosi dell'oro dell'oro che è nel nether ti attaccano pensando che tu voglia effettivamente rubai no io non voglio rubare niente io sono molto pacifica allora sta mi erva è crasciata e calla infatti ah che amanezza oh c'è un sacco d'oro qua oh allora forza l'oro è arrivata la parola di 200 posso dire che c'è un sacco d'oro qui io sto girovagando per capire un po' la zona io mi sto in game comunque aspetta scusa ma dove stai girovagando fammi capire sono lontana molto lontana e calla stai usando la fly allora mo la uso pure io scusate perché non vedono io usala perché sennò è una morte certa oh chi è io che bevo oh madonna che veri bruterrimi mi prendo la visione notturna oh grazie a dark ho preso la visione notturna cioè posso dire fighe arriva dark un portale del nether qua quindi vediamo che è vero aspetta qua c'è ancora oro ma no ma nerva sei crashata adesso ma chi è che fa questi versi brutti no io che sono uscita da un portale del nether ah ho i volumi alti lo so mi dispiace dove sei sbocata per qua in una giungla in una giungla pensa un po' ma guarda l'oro ragazzi ma eh sì ma cos'è è oro sento sempre questi versi strani allora mi dai le coordinate che ti devo dare una roba che almeno devi ti la morte ma questo è un piglin volete dirmi questo è un piglin probabile l'ho motto comunque l'ho motto ottimo non l'ho motto l'ho motto ok ok allora abbiamo detto che io stavo qua a fare cosa boh pigliare roba trovate un bastione se gli serve ah interessante la rischio morte è elevatissimo eh beh però con la fly si fa beh certo ci sono come si chiamano quelli le verruche si chiamano non lo so dovrei esplorarlo le potresti trovare in alcune chest ma bene perché allora questo è intatto perché è sponato in un punto bellissimo però sì diciamo che mi dipademi mi dipademi così vedo anch'io la fortezza non riesco ad entrare dark tipo mi va sei immobile però eh sì sì ok tiro con l'arc aumentato ok oh my god ma sulla lava mi ripado oh 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 ma che poco so ma cos'è mi vuole uccidere mi vuole uccidere ora muoio ora muoio viva ok ok sono viva dovresti aver luttato il mio piccone mi sa controlla ma che davvero eh mi sa di sì mi nerva stai mobile che sono muori oh sì tieni piccone di ferro incantato no di nederite ah no ah sì sì scusa eccolo vieni infarto questo è tuo cosa è mio il piccolo incantato ah ok grazie e dove stavano io l'ho tirato ah ok ok allora dove è la fortezza quindi e siamo dentro la fortezza siamo dentro oh my god aspetta che non c'è la fly minzino minzino dove stai sono andata ecco ok attenzione mi è perso sopra sopra simile a scala ecco guarda dove sei sopra alle scali ok sopra ah voi siete andate su ah ma qui è stata luttata c'è la cobblestone ah è stata luttata maledetti vabbè quindi non c'è più niente qua difficile ci sia qualcosa ma e quel e quel portale di chi è mio no 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 tutti i portali dalle persone che ogni portale ha un raggio di 100 blocchi e non si sono presi l'oro qua perché non gli serve un po' diventa abbastanza inutile l'oro prendiamo il quarzo che invece ci serve tanto vabbè io pio l'oro perché sono ignorante quindi ok ecco quindi comunque potremmo usare questo portale per tornare indietro volendo no no io non me lo ricordo dove sta il mio eh ragazze allora diciamo che potremmo fare il cheat dello slash home eh però non sarebbe proprio completamente no non è corretto già stiamo usando la fly ma chi se ne frega è calla va bene in caverna pure pure ma insomma ne vedete aspetta ecco che che dovevo almeno te non rischi di schiattare rara dietro dove che cos'è cose in oro così non pensano che tu li voglia male ah benissimo grazie perché ci sono qui qua vicino e mi stanno già balestrando quindi ecchime ecchime niente guardate io c'ho l'oro c'ho l'oro cicci c'ho l'oro no ma loro sono pacifici sono quelli non zombie che picchiano allora vado a vedere un attimo in per di qua sono questi ci siete vicino a me ci siete no benissimo così mi sono persa e addio sono qui sulla fortezza sulla fortezza arrivo arrivo ecco 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 fagli fagli il che si chiama ah ecco ci siete tutte e due e quindi niente qui non c'è niente no questa è stata già esplorata quindi niente possiamo prendere niente allora si potremmo da eh sì e damo se allora va niente fatto e dove è il nostro portale oh è più vera domanda perché io ero a ritrovare un centinaio di blocchi mi sa slash home eh slash home ok certo e per la scienza come slash home slash home eh portale sì portale vado al portale ecchi me qua dai la contea lavori in corso sì sì qui ci sono i lavori in corso stiamo facendo grandi cose intanto ho acceso il portale qui dovrei anche come se spegne il portale se spegne devi rompere un blocco di ossidiana no perché dovesse usci qualcosa no non esce no ok allora posso rimane ramingo un blocco di lava ovvero da che sta prendendo parole ragazzi la abitudine allora qui metto roba facciamo così metto roba ecco perché tu non c'hai visto un giorno con minerva cosa è successo immagino mi caduta nella lava ho sbloggato con la velocità che non so manco io non so come ha fatto a salvarmi perché non volevo bruciare allora Dark io ti ti restituisco i gambieri d'oro e ti ringrazio ma no dai dai potrebbero servirti no a cosa non so quando andremo per esempio nella città antica la città blusa ragazzi lo chiamano ma non serve l'oro cioè lì più più messo bene lì voliamo però assolutamente lì voliamo massimo i tappeti si possono massimo i tappeti esatto allora nel frattempo ragazzi voi cercate una montagna bella alta dove ci potrebbe essere la città antica così magari la prossima volta andiamo a esplorare la città antica che dite ci vieni Dark ci vieni Minerva certo dai andiamo all'avventura ma sia sia occasione buona per andare a morire ecco appunto eroi va bene allora io vi ringrazio per questo tour molto simpatico e bellerrimo grazie Dark per avermi fatto da guida spirituale visto che io non verrai anche nella città perché ti ci devo portare certo certo quindi andremo con Dark magari la prossima volta loro nel frattempo trovano la montagna dove potrebbe esserci la città antica e quindi la prossima volta sarà interessante magari vedere anche se riusciamo ad andare in questa città antica se no Dark trova tu qualcosa da fare di Figuerdi ma tra cui il l'obiettivo quello lì dei blocchi che mi devo buttare da non so dove per morire male ok se poi magari mi dici che adesso per soffocare che obiettivi ti mancano posso eh tu lo dici Minerva cosa che io non mi ricordo perché sono una basura si allora mi manca mi manca un sacco di roba però non è che voglio far proprio tutti capito cioè quelli magari un po' più semplici tra cui furtività accovaccia di vicino a un sensore di skulk o a un sorvegliante per non farti sentire questo lo dobbiamo dobbiamo fare nella città capito no 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 sono le cornacchie ah ok va bene allora detto questo io vi ringrazio ancora sia Dark che Minerva e noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao